Cominciamo di nuovo, adesso dobbiamo andare al punto 7, per cortesia un po' di silenzio se no è possibile, allora se il 6 era comandare non chiedere, il 7 parla al problema, quando si parlava al sicomoro, vi ricordate quando sul passo del sicomoro c'era scritto, parla al problema è detto, non di parlare agli altri circa il problema, non dovete parlare ad altri, dovete parlare al problema, non dice neanche di parlare a Dio del problema, ma tu parli al problema, questo è quello per il quale forse abbiamo bisogno di dare una definizione precisa, molte volte cerchiamo di mandare via una malattia e questa non è una grave difficoltà, ma nell'essere più accurati, più accurati siamo, più abbiamo potenza a disposizione. Quando noi diciamo che dobbiamo respingere qualcosa, vi ricordate quando Gesù respingeva qualcosa, vi ricordate che il respinse o gridò al vento, al mare e la parola di Dio dice che anche verso gli spiriti credò, perciò parlò a demoni, ha rigettato la febbre, parlato alla febbre, ma avete mai realizzato quello che diceva? Perché non ha mai detto febbre, io ti caccio, non fece mai così, non ha mai detto spirito io ti caccio, questa è la tradizione che forse noi abbiamo, ma non funziona molte volte, allora cominciamo a pensare che c'è qualcosa che non va e la ragione per la quale non funziona è perché quando tu dici io ti caccio, ti respingo, non dici nulla, non dici nulla assolutamente, perché la parola rebuke, chi mi trova un sinonimo direbbe, sgridare, va bene, significa esattamente parlare contro, sgridare, andare verso, invece di dire io sgrido dovreste dire a lui che cosa deve fare, lui malattia, la parola di Dio ci dice che Dio sgridò il mare e i venti e disse, perciò ci dà anche la definizione di come egli sgridò il mare e i venti e non si alzò dicendo, oh mare e vento, io adesso ti sgrido, ma disse, si placato, vedete? Non disse, io ti sgrido, ma disse al mare e al vento ciò che avrebbero dovuto fare, quando lui sgridava degli spiriti, non diceva io ti sgrido spirito, ma diceva vai, cioè dava delle chiare istruzioni su quello che dovevano fare, perciò sgridare significa esattamente dare delle chiare istruzioni su cosa bisogna fare, perciò cerchiamo di cambiare la nostra terminologia, per essere molto più accurati, va bene? in questo modo siamo sicuri che quello spirito vi possa capire, che il vento e il mare vi possano capire, che il fico vi possa capire, che la febbre vi possa capire, ma fino a che tu non arrivi al punto di dire che cosa deve fare, non può obbedirti, se dici semplicemente ti sgrido genericamente, dirà si va bene, allora continua dai, aspetta che tu gli dica qualche altra cosa, perciò gli devi dire quello che deve fare, perciò devi parlare a quel problema, va bene? Il numero otto come segreto, guarda le persone come prigionieri di guerra oppressi, se non li vedi in quella maniera, cercherai sempre di renderli responsabili per la loro malattia, piuttosto che prendere il problema e la responsabilità sul diavolo. Gesù non mise mai il dito sulle persone, ma mise sempre l'accento sul fatto che fosse un problema del nemico, non ha mai puntato il dito verso di loro. Molti insegnano sul digionare sul pregare e insegnano diverse cose e molte volte vanno in Isaia 58 e c'è scritto che non è questo il digiuno che io ho scelto e noi enfatizziamo sempre il fatto che il digiuno sia relativo al cibo. Ma se ci facciamo ben caso in Isaia 58, l'attenzione del digiuno non è posta sul cibo, ma è per altre cose e dice che non è questo il digiuno che io ho scelto, cioè il fatto di puntare il dito, di mandare via il fatto di puntare il dito. smettila di giudicare, dice la parola, smettila di puntare il tuo dito verso qualcuno, fai quello di digiuno, molto più quello che il cibo e quando tu veramente fai a meno di quelle cose, allora Dio è compiaciuto come se avessi fatto un bel digiuno, perché altrimenti tu puoi anche digiunare quanto vuoi anche per 10-20 giorni alla volta e tutte le volte stai sempre col dito puntato continui a giudicare il tuo digiuno non ha nessun valore agli occhi di Dio dobbiamo anche lì digiunare in maniera corretta dobbiamo vedere le persone come oppressi prigionieri di guerra che il nostro compito è quello di andare a liberare e di proclamare la liberazione e il modo in cui tu proclami la loro liberazione non è un'offerta ma dire all'oppresso io ti libero io ti rendo libero vai via libero come possiamo dire questo? perché noi ripetiamo ciò che Dio dice lui l'ha già detto perché ha detto che per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione e perciò dobbiamo dire la stessa cosa e dobbiamo dire loro la porta della prigione è aperta e adesso puoi anche andare semplicemente così numero 9 si pulito e resta pulito puro cerca di non essere contaminato dal peccato anche dai piccoli peccati e lo devi fare cominciando ad odiarli veramente infatti non riuscirai mai a uscire fuori dal vortice del peccato fino a che tu non metti da parte e magari continui ad andarli a visitare di volta in volta ma devi veramente farla finita con loro deve essere morto il peccato a te e tu devi essere morto al peccato è essenziale è buono poter alzarsi davanti a Dio davanti agli uomini e davanti al diavolo ed essere in grado di poter dire eccomi qua guardami signore esaminami non c'è nulla in me che il nemico possa usare come grimaldello e mentre ho detto questo se ti vedi fare una cosa del genere nello stesso tempo le cose cominceranno a venire alla tua mente attento tu hai questo che il nemico può utilizzare hai quest'altro hai quest'altro atteggiamento hai questa tentazione ho questi desideri ho queste diverse cose e quella lista esattamente è quella che tu devi distruggere mentre stavo parlando mi veniva fuori mi veniva a mente una lista di cose e le devi uccidere non devi giocarci non è un problema è un peccato e devi ucciderlo devi essere morto al peccato e non devi giocarci più amén ora numero 10 numero 10 ricordati quando Dio comincerà ad utilizzarti devi stare via o rifulgere via dall'orgoglio e c'è un modo molto molto facile per farlo tutto quello che ti devi ricordare è che chiunque può fare quello che stai facendo tu in quel momento non sei speciale non sei qualcosa di straordinario quando tu guarisci un ammalato quando tu fai risuscitare un morto quando tu cacci via un demone e quando predichi quando profetizzi qualsiasi cosa tu sia stia lì facendo ricordati che Dio può utilizzare chiunque altro non sei speciale sei solo un credente e questa è la base per essere un credente non è un'altitudine spirituale che hai raggiunto non significa che sei al di sopra di ogni altra cosa se Dio ha utilizzato anche un'asina e qualcuno dice che sta utilizzando anche asini oggi perciò dobbiamo realizzare che se ha usato degli asini può usare chiunque perciò come posso diventare orgoglioso se tutti quanti possono fare quello che sto facendo io noi gioiamo solo che è Dio che lavora attraverso noi in noi esattamente come la parola di Dio afferma amè? all'ora numero 11 sia aggressivo sviluppa la tua aggressività e devi operare per svilupparla se tu sei stato in chiesa la maggior parte della tua aggressività è stata distrutta perché aggressività nella chiesa è giudicata come un male e quando è utilizzata contro le persone e infatti dovrebbe essere così giudicata come un male ma dobbiamo invece sviluppare la nostra aggressività verso il nemico e le opere del nemico non dobbiamo tollerarle assolutamente nemmeno un pezzettino di loro e devi svilupparla parlando in maniera forte autoritaria se hai bisogno statene lì davanti a un specchio e guardati e cominci a parlare a te stesso Davide parlava a se stesso e diceva anima mia benedici e tutto quello che è in me benedica il nome tuo santo stava parlando a se stesso e stava parlando a se stesso in maniera forte non voleva non vacillava non diceva anima mia per cortesia benedici il Signore non chiedeva ma parlava a se stesso comandava anima mia benedici il Signore e diceva che quando sono stato buttato giù io mi sono risollevato per dare le lodi al mio Dio ciò devi fare la stessa cosa oh ma non sono così io non è vero esattamente non sono aggressivo vuoi dire e non è neanche vero io ho visto il modo in cui guidate e qui siete aggressivi veramente sicuramente siete aggressivi solo che forse la vostra aggressività è messa nelle cose sbagliate invece dovete guidare la vostra aggressività verso il nemico amè amè numero dodici molte volte diciamo e parliamo come se siamo condotti dallo Spirito di Dio e dire essere condotti dallo Spirito di Dio lo immaginiamo come una sensazione particolare arbitraria quando tu sei guidato dallo Spirito dalla natura dal carattere di Dio quando tu sei guidato dalla natura di Dio tu sei lo stesso ogni giorno non ci sono domande devo pregare per questa persona Signore che cosa farebbe la natura di Dio vedrebbe l'oppresso e sicuramente lo libererebbe non c'è nemmeno la possibilità di una domanda perché questa è parte della sua natura è molto semplice essere guidati dalla natura di Dio perché sappiamo la sua natura Lui è amore Lui è libertà le tre cose che Dio ha dichiarato che Lui era luce amore e vita e tutte le altre cose ha detto che le aveva ma invece quello che Lui era erano quelle tre perciò sii guidato dalla natura di Dio sii guidato verso la vita sii guidato verso la luce verso una rivelazione sii e fai in modo di lasciare che lo Spirito ti possa insegnare e sii guidato dall'amore che cosa farebbe l'amore io non lo so in quella situazione che farebbe per un momento solo mettiti negli stivali o nelle scarpe della madre di quella persona che cosa farebbe una madre per suo figlio ammalato allora fai quello perché il cuore di una madre la porterebbe a fare qualsiasi cosa per poter liberare il suo figliuolo anche fino al punto di mettersi al posto di quella persona e morire al posto di quella persona e quando tu possiedi il cuore di una madre tu stai anche sperimentando il cuore di un padre perché è esattamente quello che ha fatto Lui ha preso il posto quando non doveva farlo vero o no? numero 13 accetta la responsabilità per il tuo vicino per il tuo prossimo molte volte noi guardiamo alle persone siamo solo felici che non siamo coloro che sono malati e diciamo Signore grazie che non sono come Lui Signore grazie perché non sono in quella situazione e diciamo che è buono dare grazie a Dio e ringraziarlo però dovresti anche accettare la responsabilità per loro se hanno fame nutrili se hanno bisogno di soldi dagliali nel Texas abbiamo molti abitanti molte persone che stanno lì all'angolo della strada e stanno lì che chiedono le lemosina e hanno figli che dicono che hanno figli che hanno fame che hanno bisogno di qualcosa così come succede qui da voi e molte volte in Texas quando entriamo con la macchina lì verso l'angolo non ci fa piacere vederli perché la nostra coscienza ci spinge a dare qualcosa a loro ma la nostra mente è completamente contraria e la mente può suggerire no non dargli nulla è un niente non è nessuno probabilmente quei soldi che gli darai li utilizzerà per ubriacarsi o per qualche altra cosa e all'improvviso la nostra radio comincia a diventare talmente importante che noi giriamo lo sguardo da quella persona che si sta avvicinando alla macchina e cominciamo a manipolare un pochettino la radio in modo da ignorare quello che sta per bussarti alla finestra e quando si fa verde il semaforo sappiamo subito che scappiamo via e andiamo e la radio in quel momento ha perso tutta la sua importanza e io facevo la stessa cosa e il mio cuore comunque mi condannava e ho detto a Dio io non voglio dargli dei soldi molto probabilmente li utilizzano per delle cose sbagliate signore e questo è il denaro che Dio mi ha dato e non voglio che qualcuno lo utilizzi per qualcosa di sbagliato e Dio mi ha parlato se è il mio denaro fai quello che ti ho detto di fare ma io non voglio sprecare i tuoi soldi signore ma lui mi ha risposto io ti ho detto nelle scritture dai a tutti coloro che ti chiedono signore ma lo utilizzano in maniera errata lo faranno per qualcosa di sbagliato e lui mi ha detto in modo così chiaro che cosa significa questo per te? tu si obbediente e sono io che mi prenderò cura di loro poi perciò ho cominciato a dare del denaro a loro e ho cercato di abituarmi a farlo senza guardare quanto stavo prendendo per dare loro qualsiasi cosa tiravo fuori dalla tasca era quello che gli davo e poi il signore mi ha parlato di nuovo riguardo a loro perché abbiamo aiutato delle persone una volta e ogni giorno ritornavano indietro perché chiedevano ancora e hanno cominciato a guardare a noi come coloro che dovevano aiutarli giorno dopo giorno e ho detto signore ma adesso che cosa devo fare in questa situazione e invece di darmi la soluzione Dio mi ha lasciato vedere loro con i suoi occhi e mi ha detto sai perché vengono da te ogni giorno perché vedono te come l'unica fonte che hanno e sei l'unica persona che li sta aiutando e mi ha detto perché non gli dovresti dare dei soldi signore ma se continuo a fare così non avrò più soldi ma vedi diceva il signore la differenza tra te e loro che loro non conoscono me non sanno come poter prendere dei soldi da me perciò guardano a te tu sei la loro risorsa ma tu mi conosci loro possono finire i loro soldi e hanno bisogno di te e se tu finisci i tuoi soldi tu hai me e io ti darò ancora di più e da quel giorno non ho mai bypassato una persona senza dargli qualcosa fino ad oggi la mia tasca non è mai stata svuotata perché se tu dai ai poveri tu presti al signore e lui ti ripagherà numero 14 decidi di obbedire alla Bibbia non a qualche sentimento arbitrario i sentimenti, le emotività vanno e vengono ma questo libro durerà in eterno i tuoi sentimenti e le tue sensazioni possono essere sbagliate ma se tu obbedisci a questo libro il Signore non ti potrà mai ritenere colpevole per fare di aver fatto qualcosa di sbagliato perché tu stai obbedendo a quel libro se volesse che non lo facessi non avrebbe dovuto stampare quel libro perché noi dobbiamo essere abbastanza pazzi da credere ogni parola che vi è scritta e se lo facessimo lui sicuramente darebbe enfasi sulle sue parole e le porterebbe a compimento perché lui sceglie le cose pazze per confondere quelle sagge perciò abbiamo bisogno semplicemente di obbedire Dio è un manager stupendo non ci dice solamente come fare lui ci dice esattamente cosa vorrebbe che sia fatto e molte volte lascia a noi la responsabilità di come farlo per esempio dice metti le mani sugli ammalati imponi le mani sugli ammalati non dice esattamente come farlo non dice esattamente se le mani vanno poste sulla fronte sul capo, sul collo dice semplicemente di imporre le mani ma noi vorremmo essere più specifici signore come prego per questa situazione come devo pregare per quell'altra fatemi dare un esempio molti anni fa io insegnavo arti marziali e quando insegnavo ai miei studenti dicevo loro sempre io vi darò, vi dimostrerò la tecnica e stavo lì che praticavo con loro e loro cominciavano a praticare un po' e sempre mi chiamavano e mi dicevano signor Blake abbiamo fatto bene o no? e cominciavano a mostrarmi quello che avevano fatto e ogni volta li fermavo aspetta non me lo dimostrare pensiamo un attimo innanzitutto ha funzionato? hai vinto? hai fermato il tuo avversario? e lo hai fatto senza che ti abbia fatto del male? mi dicevano sì allora era giusto non ha importanza non devi arrivare alla specifica di quello che hai fatto perché l'obiettivo era stato raggiunto e non avevano violato nessuna delle regole per riuscire a raggiungerlo e le regole alle quali dobbiamo obbedire sono solo due semplici ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore tutta la tua mente con tutta l'anima tua e il tuo prossimo come te stesso semplice non abbiamo bisogno di altre cose quando noi agiamo senza violare quei due principi va bene qualsiasi modo abbiamo fatto come prego per questo? non è importanza fratello o sorella tu comandi e dici alla malattia ciò che deve fare e poi dici nel nome di Gesù so sia così sia ed è finito semplicemente eh ma come imponiamo le mani fratello? oh questo è difficile la mano imposta ecco è finito noi lo facciamo tanto complicato molte volte nella Bibbia non è neanche menzionato che abbiano imposto le mani se volete vi faccio tanti esempi quando i discepoli e anche Gesù stesso semplicemente prese una persona per mano e furono guariti e vedrete fare questo anche a me se mi avete già visto pregare per qualcuno avrete visto che lo prendo solo per mano perché lo faccio? perché è semplice perché lo posso fare con chiunque non mi devo preoccupare di apparenze sbagliate di dove sto ponendo la mano e a volte oggi se voi mettete la vostra mano sulla testa di qualcuno potete magari scompigliargli i capelli e potete sorprendervi di quanto si arrabbino anche se sono stati guariti facciamo questo molto semplicemente ed è sempre appropriato se qualcuno ha un problema allo stomaco io non devo andare lì a mettergli la mano sullo stomaco immaginate che sia una donna non mi permetto di mettere la mia mano sul suo corpo le posso prendere solo per mano così non c'è nessun problema così perché tutti quanti vedono bene dove sono le mie mani nessuno può dire dove erano le mani del fratello Blake e quando la prendete per mano così oppure fatemi ritornare un attimo indietro molte volte noi mettiamo la nostra mano sulla fronte qua qualcuno l'ha fatto anche a me e ne ho resistito un pochino perché mi mettono la mano qui e molte volte vogliono che tu attraverso quel gesto vada a finire in terra e cominciano a spingerti mi spingono indietro fino a che devi cascare per forza quando me l'hanno fatto a me e la mia testa girava indietro anche il mio piede andava indietro se io cado deve essere il Signore a farmi cadere grazie a tutti grazie a tutti